Buonasera a tutti, come saprete dai mass media, ultimamente è nata l'idea di alcuni colleghi sindaci facenti parte dell'Unione Comune della Presolana, in modo particolare Rovetta, Fino del Monte, Onore e Son Gavazzo, l'idea di andare verso il Comune Unico attraverso la fusione, un'idea legittima, ma a mio avviso ritengo, ed è mia convinzione e mia anche dell'intera giunta, che questa scelta va decisa e discussa con i propri cittadini, in quanto lo spessore che comporta questa scelta è molto importante, perché comporta in maniera irreversibile la rinuncia a gestire e a governare il proprio territorio in modo esclusivo. Quindi, perché se deliberassi di decidere su questa proposta, l'iter procedurale e la norma rimane in capo alla Regione Lombardia tale scelta, sia di indire il referendum consultivo e poi la decisione, che non è detto, tenga in considerazione il risultato referendario. Quindi potrebbe anche capitare che, se Cerete decidesse per il no, la Regione potrebbe imporci alla fusione. C'è già un esempio in questa direzione, nel 2011, quando l'idea di fusione di tre comuni nel Comasco, nonostante il referendum fosse passato il no, la Regione Lombardia gli ha imposto la fusione riguardo il Comune di Gravedona, Romo e Germasino. Quindi sto distribuendo per questo motivo a tutti i capi famiglia una lettera di invito ad un'assemblea pubblica, ne ho indette due, partecipare almeno ad una, dove spiegheremo, illustreremo cosa dice la norma e vorrei avere un confronto, un dibattito con voi per capire cosa ne pensate su questo tema così importante. Dopodiché è previsto, ho in programma a gennaio, un referendum dove vi inviterò quindi a decidere su questa scelta. In questo modo, soltanto in questo modo e in base al risultato, l'amministrazione deciderà in un senso o nell'altro, quindi considerando la vostra decisione su questo tema. Credo quindi sia importante che voi partecipiate ad una di queste due assemblee, una è prevista per il 15 novembre alle 20.30 presso la Sala Consigliare e la successiva il 23 novembre, sempre alle 20.30, presso l'Acio delle scuole elementari a Cerete Basso. Vi invito proprio a non mancare e ad partecipare, perché soltanto con la partecipazione si può essere protagonisti delle scelte e non subirle. Vi aspetto numerose, non mancate.